Si rinnova l'occasione di visitare la Domus di Via dell'Abbazia a Fano, un'area archeologica di proprietà privata che è stata resa visibile dal FAI nel corso delle giornate di primavera. Nel secondo appuntamento dell'anno del Fondo Italiano per l'Ambiente, quello di autunno, il pubblico potrà tornare a visitare questo complesso che su vari strati documenta la storia della città. Prima villa suburbana, poi necropoli pagana, quindi cimitero cristiano, con la tomba di San Paterniano e metà di pellegrinaggi. Dalla villa alla basilica di San Paterniano, il programma del FAI propone rare occasioni a fanesi e turisti di conoscere più da vicino il passato di Fano, quale presidio importante sull'antica consolare Flaminia. Le visite sono organizzate sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 senza prenotazioni. Al suo interno la sepoltura di San Paterniano, primo martire e probabilmente anche vescovo fanese, che venne sepolto in questo luogo, quindi ha una grande importanza e dove intorno alla sua memoria si accresce un grandissimo cimitero. Nasce la prima basilica paleocristiana di Fano, che poi nel 1551 viene trasferita dentro le mura per ragioni di sicurezza. Insieme al trasferimento della basilica si trasferisce l'arca del santo e quando si trasferisce? Proprio il 10 di luglio, che è il giorno che tuttora viene commemorato come festa del patrono. Tornando alla villa romana, era una villa colonica, una villa rurale, una villa suburbana, una villa signorile? Che villa era? Parliamo di una villa suburbana, ci troviamo lungo la via Flaminia a circa 600 metri dalla porta augustea fuori le mura, quindi una villa sicuramente signorile, per la ricchezza anche degli apparati sia di affreschi che di mosaici che abbiamo potuto riscontrare durante lo scavo, anche se i pavimenti sono mantenuti in condizioni limitate, perché la villa è stata spogliata, è stata poi oggetto di vari rifacimenti. Fungeranno da Cicerone gli studenti delle scuole medie e superiori. L'iniziativa è stata presentata da Anna Siccoli, responsabile del FAI di Fano, e dall'archeologa Vanessa Lani, direttrice della rete museale della via Flaminia. Sabato 12 alle 17 e 15 si terrà un concerto tenuto da Giovanni Omiccioli con lo splendido organo Callido, quindi sono tutti invitati a questa aggiunta alla bellezza della Basilica che contiene all'interno delle opere d'arte veramente importanti.